Ciao ragazzi, sono Ottavio Missoni e rappresento l'azienda di moda Missoni, un'azienda del territorio di Varese che ha 70 anni di vita. E mi occupo della sostenibilità aziendale. La sostenibilità è legata principalmente all'utilizzo dei tessuti. Il mondo della moda è un mondo che ha bisogno dei giovani. Ci sono diverse competenze richieste. Nella moda serve chi fa gli abiti, quindi chi ha la manualità di cucirli. C'è bisogno di chi è bravo a venderli e c'è bisogno anche di chi è bravo a indossarli. Così come anche chi è bravo a creare contenuti social per promuoverli, quindi commessi, modelli, modelle, fotografi. Per cui è davvero un mondo trasversale e penso che nel nostro settore ce ne sia un po' per tutti. Io da ragazzino voglio fare il giocatore di pallacanestro. Ho iniziato da giovane. La provincia di Varese invoglia la pallacanestro proprio per la nostra tradizione. Quindi io a 12-13 anni, diciamo, ambivo a esordire nella pallacanestro Varese. Che è un sogno che ho portato avanti fino ai 18 anni e che poi ho un po', diciamo, come sogno abbandonato, ma che è rimasta la mia più grande passione che tuttora nel tempo libero mi diverto a fare. Quindi ho seguito un percorso di studi, però io penso che lo sport, anche solo come passione, sia fondamentale anche nella vita di tutti i giorni. Grazie. Grazie.